Gentili telespettatori, buona giornata. In alcuni giornali vedo, leggo che il caso Arianna Meloni, il caso Boccia, sarebbe una sorta di complotto legato tra... ecco, sarebbero dei casi legati da un unico complotto contro il governo Meloni. Possiamo dire che in realtà non possiamo escludere questa possibilità. Secondo me non è probabile, ma non è neanche impossibile. Diciamo che bisogna anche ascoltare chi dice questo, una sorta di filo rosso, proprio il rosso è il collegamento esatto, che collega le due storie, che comincia nella lontana primavera del 2023. Quindi il tentativo, secondo alcuni giornali, di creare degli scandali nel governo Meloni per farlo andare a casa. Naturalmente non avevano, se eventualmente dovesse esistere una sorta di complotto generale, non avevano fatto i conti col fatto che la Meloni le dimissioni non le darà mai, per nessun motivo. Una volta bastava un solo caso che i governi andavano a casa. Oggi si possono fare tutti i complotti che volete, però i governi non vanno più a casa. Allora, questo filo rosso partirebbe con la fantomatica indagine su Arianna Meloni, che Sallustri avrebbe rivelato? Beh, lì non sappiamo. L'altro è l'affare Maria Rosa Boccia, un filo rosso che comincia a dipanarsi nella primavera del 2023, che coinvolge anche il cognato d'Italia, Lollo Brigida, ormai ex della sorella della Premier. Che lui continua a essere convinto che l'imprenditrice sia manovrata da qualcuno. Secondo me era manovrata dalla voglia di emergere e basta, una classica superarrivista. Secondo me era lei che manovrava se stessa, però ognuno ha la facoltà di immaginare gomblotti. Però poi si parla di un profilo Instagram dedicato al gossip, che si chiama Politica e Amori, che tra il 12 e il 13 agosto ha pubblicato post allusivi proprio all'ex Ministro della Cultura, sulla moglie Federica Corsini e una sua presunta amante, che è stato creato questo profilo a maggio, ovvero proprio quando inizia la storia tra San Giuliano e Boccia. Bah, insomma, io ho qualche sospetto di chi ha creato questo profilo di Instagram, un profilo che sembrerebbe creato proprio per far uscire questa storia, no? Fare uscire e creare notorietà e visibilità. Quindi io avrei una certa idea su chi ha creato questo profilo Instagram. Quindi probabilmente il complotto non arriva chissà da dove, probabilmente il complotto l'ha creato la stessa persona per aumentare la sua fama, no? Ecco, mi avvicino al Ministro, faccio finta di fare questa storia sentimentale, intanto creo un profilo che dice, ah, ci potrebbe essere un, insomma, tutta una strategia, no? Repubblica fa notare che oggi a sponsorizzare Boccia presso il Ministero dell'Agricoltura sono due deputati di Fratelli d'Italia, Marta Schifone e Jimmy Cangiano. Boccia e Lollobrigida si incontrano la prima volta il 5 agosto 2023, durante un evento a Pompei, il Ministro annuncia la nascita di un intergruppo parlamentare sulla dieta mediterranea, poi secondo Boccia nessun altro rapporto con lui, ma non è vero, il 20 dicembre 2023 Lollobrigida e Boccia insieme a Montecitoro presenziano all'evento sull'intergruppo, con loro c'è Marcello Gemmato, sottosegretario alla Sanità molto vicino a Meloni. La Boccia intanto promuove un secondo gruppo interparlamentare sulla medicina estetica, lo presiede Cangiano, Boccia organizza anche un festival della bellezza a Sanremo. E nell'occasione Lollo, il cognato d'Italia, le manda una lettera, il 20 febbraio lei la pubblica su Instagram, taccando il Ministro, taggando il Ministro. E qui succede qualcosa di strano. A Cangiano, Fratelli d'Italia, dice che deve lasciare l'intergruppo, mentre Palazzo Chigi comincia a interessarsi alla Boccia. A giugno Arianna Meloni, saputo dell'avvicinamento di Boccia a San Giuliano, lo chiama e lo mette in guardia. Intanto al Ministero i rapporti tra i due cominciano a essere chiacchierati. Boccia aveva scelto la nomina ai grandi eventi non per caso. Prevedono grandi spese con appalti, affidamenti per lo più diretti. Era riuscita a ottenere anche la tappa Pompei per il G7. Più volte lei aveva fatto intendere di aver appreso dei segreti del Ministro e del Governo. Dice una fonte, allora, 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 sentite un attimo, questa Boccia si avvicina all'Ollo Brigida. Poi Fratelli d'Italia improvvisamente si allontana da questa Boccia. sembra quasi che Arianna Meloni abbia intuito che c'era qualcosa che non andava e quando scopre che la Boccia si era avvicinata a San Giuliano Arianna Meloni telefona a San Giuliano e lo avverte. Allontanala, stai attento. E io mi chiedo San Giuliano c'è cascato? Abbiamo detto in questi giorni che San Giuliano è il classico uomo che ci casca. Ma caspiterina, se sei stato anche avvertito, ti ha telefonato Arianna Meloni e ti ha detto stai attento, cioè ti stava dicendo guarda che è una rivista, attenzione a come ti muovi. E San Giuliano c'è cascato lo stesso? Caspiterina, capisco che ci puoi cascare perché sei magari sentimentalmente un po' superficiale e non riesci a individuare un certo tipo di persona, però quando ti avvertono, ti telefonano, ti chiamano, ti dicono stai attento e tu ci caschi lo stesso, allora, insomma, allora si comincia a pensare diversamente su San Giuliano. In più, la domanda è, ma la storia con Lollobrigida finita definitivamente tra Arianna Meloni e Lollobrigida, ha qualcosa a che fare con questa boccia? Ebbè, insomma, diciamo che questa si muoveva bene, caspiterina, caspiterina, insomma, arrivederci a tutti e grazie. Grazie.